Se fosse stata contenibile, e vogliamo essere ottimisti, se fosse contenibile, il Ministro degli Interni non avrebbe nessuna difficoltà a venire in Parlamento, a parlare 20 minuti, 25 minuti, non una battuta per dire le matriosche, tutte balle o cose di questo genere, ma un discorso di 20 minuti in cui lui chiarisce i suoi rapporti con questo signore, i suoi rapporti con la Russia, che cosa si intende nelle conversazioni che sono state registrate, perché qui ci sono due aspetti, entrambi molto gravi. Il primo è che c'è un signore che è l'ambasciatore di Salvini in Russia, oltre che il suo ex portavoce, che discute una tangente di 65 milioni. Su questo ci saranno riscontri, non ci saranno? Indaga la magistratura. E comunque Salvini non ha detto che era un truffatore, un imbroglione, non l'ha denunciato per calunnia e diffamazione. Dice che è una persona onorevole, che lo conosce da 27 anni e che è una persona per bene. E abbiamo le registrazioni, sono state pubblicate, nessuno le ha smentite che questa persona per bene, onorevole, che lui conosce da 27 anni, andava in giro a chiedere 65 milioni per la Lega di Salvini. Se Salvini non è in grado di dire che questo è un imbroglione, un calunniatore, un truffatore, io penso che non possa fare il ministro degli interni. Lei ha chiesto le dimissioni? Stavo dicendo, penso che non possa fare il ministro degli interni. Se non è in grado di dire almeno che è un imbroglione, denunciarlo. Può capitare di avere degli strettissimi collaboratori che fanno delle cose terribili. Ma se tu non sei in grado di dire che hanno fatto una cosa terribile, vuol dire che probabilmente non sei libero di farlo, non sei cretino.